Finisce con un pareggio senza redi la gara matese notaresco allo stadio ferrande di Piedimonte Matese. Anche oggi il pubblico, sempre caldo e numeroso, non è bastato a spingere i ragazzi di Urbano alla vittoria. Così come non è stato sufficiente ai Verde Oro Matesini lo scorcio di gara giocato da Vittorio Esposito, che rientrava dopo due mesi di infortunio e con un solo qualche giorno di allenamento nelle gambe per portare a casa l'intera posta in palio contro una squadra notaresco ostica e con un muro alzato a centrocampo dove non ha sbagliato quasi nulla. Una squadra al completo e rinforzatissima dunque rispetto ad un Matese decimato con molti ragazzi che sono stati recuperati all'ultimo momento, falcidiati dall'influenza. Eppure la più pericolosa, traversa da parte, è stata il Matese. A fine gara abbiamo sentito mister Urbano che si è detto soddisfatto comunque del pareggio. Allora mister, un pareggio è tutto sommato giusto, no? Beh, sicuramente abbiamo fatto qualcosa in più, no? C'è il salvataggio sulla linea al primo tempo sul colpo di testa di Siska, negli ultimi minuti il colpo di testa di Reda che ha colpito la traversa a livello di occasione. Però loro sicuramente è una squadra che si è rinforzata tanto in questo mercato di dicembre e lo ha dimostrato oggi. Ha preso giocatori importanti della categoria e a me ha fatto una buona impressione. Noi oggi abbiamo fatto una grande partita di volontà, di sacrificio. Chiaramente sotto l'aspetto tecnico non è stata da parte nostra, soprattutto il primo tempo, non è stato bello. Il secondo tempo meglio, però. Ecco, gli innesti di Esposito e Ricciardi hanno un pochettino migliorato. Anche se ci sembra che sono ancora imballati, no? No, ma Esposito si è allenato due giorni dopo due mesi stasettimana. Tra l'altro è stato colpito pure da un attacco influenzale in questi due o tre giorni prima della gara. Più di quei minuti che ha giocato oggi non poteva assolutamente, anzi forse rischiavamo pure qualcosa di andare incontro ad un altro infortunio. Ricciardi ha un problema già di suo e si allena poco già di suo. Stasettimana si è allenato soltanto martedì, è stato fermo fino a oggi prima della partita con un attacco influenzale pure lui. Abbiamo recuperato Nocerino per lui per un attacco influenzale. Non siamo arrivati a questa partita nelle migliori condizioni possibili, però considerando, lo sapevamo, lo sapevano tutti, lo sapevamo tutti che avevamo avuto più di qualche problema in questo periodo dove tutte le squadre mettono benzina nel serbatoio. Noi diversi giocatori non hanno avuto la possibilità di allenarsi, chi per un motivo e chi per un altro. Già di suo le partite dopo la sosta sono sempre in incognita, quindi aver mosso di nuovo la classifica significa dare continuo al lavoro che stiamo facendo. La prossima? La prossima è a Nuova Florida. Se non sbaglio ha vinto fuori casa a Fano. Un'altra squadra che si è ulteriormente rinforzata. Hanno fatto un buon mercato di dicembre. Come tutte le partite sarà una partita difficile da affrontare e spero di recuperare la condizione di tutti i calciatori, perché una cosa è che giocano soltanto la domenica, una cosa che si allenano regolarmente durante la settimana.